La provincia di Savona, questa volta, come già era successo in passato, è Spatria. Va a Verona per Vinitali, una manifestazione importantissima. Perché e che cosa volete rappresentare? Per noi la produzione del vino caratterizza questa provincia e le aziende che producono, che tra l'altro stanno migliorando la loro produzione sempre di più, vanno ad esporre questi prodotti a Vinitali, una manifestazione importantissima in Italia, dove tutti i produttori di vino sono presenti. La nostra presenza, che è iniziata già nell'86, va via via consolidandosi. Quest'anno, oltre i partner che hanno promosso questa manifestazione, oltre l'Union Camere, è presente anche la Regione Liguria. E noi ci auspichiamo che in futuro la Regione possa dare ancora più forza a questa presenza al Vinitali. Quali sono le aziende? Ma le aziende sono complessivamente in Liguria circa una trentina.